La vallata sottostante, pendici del Monte Arale, porca madonna, arroccato sulle pendici del Monte Arale, Piegaro è un comune di circa 4.000 abitanti, arroccato nelle pendici del Monte Arale, del Monte Arale, sul fiume Nestore che scorre placido nella vallata sottostante, Ante, 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 Piegaro domina sul fiume, percorri il Piegaro, percorri il Piegaro, Peri, 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 Arparte, Perci fatto assistire, 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 Signora Benedetta, questa ho notato che ha fatto una splendida opera d'arte, Un'esposizione, anche una fucina di eventi sensazionali, ma è anche una fucina... Oggi si svolge... C'è stato... C'è stato una maiglia... Vabbè, fammi... Non chiedo, non chiedo, non chiedo, non chiedo gli slide, non chiedo... Non è messa a punzecchiasi tutti i... Non è messa a punzecchiasi tutti i... Non è messa a punzecchiasi tutti i... Credo che... Che hanno realizzato con le proprie mani... Qualche giovane da casa mi sta invidiando perché vicino a queste belle ragazze sto meglio di lui, insomma... Non è messa a bene, vabbè... Mi sta invidiando... Vabbè, non va bene manco... Sì, sì... All'organizzato... Dal vostro... Sì, ciao... Del 2015... Ma che vuol, con la campana che si senta... Passaggio che... Naturale mancava... Il via... Sì, buonanotte... Mi ha scattato la molla che ha attivato i primi soccorsi sul... Vai, vai, a parte... Che ha dato il via... Che ha attivato... Stamai inghiando... Che ha dato il via... Che ha dato il... Che ha attivato... Stamai inghiando... Come... Replay... Mi sono puntato... No... Soprattutto di paste nanini... Credo si... Coordinano per... Madonna... Stam... 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 Saggiamente guidate da Alessandro... Stam... 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 Con le nostre teste... Madonna... Soccolona... Solito in clarica più in giù... Stam... 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 In primis... Che entusias... Snar... Madonna... Genio Abruzzini... In primis... Che... Quadiuvat... Madonna... Da tempo celebra la prematura... Celebra la prematura scompatta... Saltà in una riga... A nostro avviso... Ben presto... Ma vaffanculo... Tonto... Io cane... Si venglato... Cosa non è io... Ma vaffanculo... Architetti... Eh vedi... Bella metta capo... Smettila... Non lo... Non lo... A nostro avviso... Ben presto... Ma vaffanculo... Tonto... Io cane... Si venglato... Cosa non è io... Ma vaffanculo... Per l'Italia centrale... Risulte la... Parto da sicuramente... Vai vabbè... E la caricatex... Signore... Troppo veloce... Alla di più piano... Vai... Per l'inizio dei lavori... Alla la 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 la... Si si... Sono a tastacazzo... Ah è Luca? Si è... Presque è Luca... Credo che... Ante ante ante... Peri peri... Assistire... Peri peri... Credo che... Assistire... Ante ante ante... Tap taf sum tram... Assistire... Credo che... Tap taf sum tram... Peri peri... Insomma... Organizza... Insomma... Brrra 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 brrra... Insomma... Via caratolo... Via caratolo... Brrra 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 brrra... Da te start nini... Madonna... Snarca madonna... Ben presto... Ma vaffanculo... Tonto... Che ci... Eh vabbè aspetta... Signor Sergio Fiandrini... Sien trentini... Fien trentini... Saluto... A tutti... Adesso mi sto... Radunati... Eh aspetta... 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 E' da poco finita... La stagione venatoria della caccia al cinghiale... E' curioso... Che fa... Che c'è? Com'è? Però è se... Aspetta... Aspetta... L'amico Vanni... Si scioglie al nostro... Al... L'amico Vanni... Si scioglie al nostro... Al... Al... E la... E la... E la... E la... E' la... Della... L platforms... B rocket... E' la... I'll show... Al zas... Yas... Ben presto... Ma vaffanculo, tonto, mio cane, se vengono l'altro cosa non è io. Ma vaffanculo.